Assolutamente non è vero niente, mi hanno chiamato molti giornalisti stamattina, ero a casa, pensavo che era uno scherzo e poi ho visto che sul giornale di Roma, se non sbaglio, c'è questo articolo che dice che il Presidente Cirilli avrebbe detto a me di dimettere, assolutamente no, non lo farebbe mai, sono un uomo del Presidente Cirilli, però questo nello stesso tempo mi sono rimasto facendo un'analisi attento molto contento. Quindi può essere anche l'annuncio di quello che può succedere nel prossimo futuro, ovviamente se io ho la fortuna di andare a Roma, perché il mio desiderio è quello di rappresentare la provincia di Salerno insieme al Senato o alla Camera, ovviamente al mio posto subentra Marisa Annunziata. Se questo è un'annuncia io sono contento, però ad oggi non è niente vero.